I sabbiarelli sono un gioco composto principalmente da due parti, la sabbia e i disegni. La sabbia è sabbia di mano bianco Carrara che viene recuperata dalle cave a seguito dell'estrazione di blocchi di marmo e resterebbe come materiale di scarto. Noi invece la recuperiamo e le diamo nuova vita. Con un sistema di setaci selezioniamo quella della dimensione giusta che scevoli bene dalla penna e aderisca perfettamente ai disegni quando si colora. Il marmo è una pietra naturalmente molto scintillante e mantiene questa sua caratteristica anche quando la coloriamo. Abbiamo un impianto robotizzato che inserisce la sabbia nelle penne e abita i dosatori e i tappi. Poi le penne vengono posizionate nei kit o nei basket e così sono pronte per la vendita. L'altra componente del gioco invece sono i disegni stampati su carta adesiva. Una volta definita con gli illustratori i disegni di un album o di un kit, avviamo da un computer dedicato la linea di stampa. Un robot prende i fogli adesivi bianchi e li posiziona sul ruolo. Le prime stampe riguardano alcuni dettagli che ci possono essere sul fronte dei disegni e sul retro del foglio. Poi si passa alla laseratura. La laseratura è impostata per incidere il foglio quanto basta per poter spendicolare il disegno senza che si danneggia il fondo. Infine un altro impianto robotizzato prende i disegni e assembla l'album che li raccoglie. Poi l'album e i disegni possono essere inclusi in un kit oppure acquistati separatamente così ognuno può scegliere la combinazione di gioco che preferisce.